Non potevo fare quello che avevo detto. Qua dentro, articolo 3bis, ripeto, ci saranno i soldi per i sfollati che permetteranno loro di comprare casa. Perché parlo di fatti, perché parlo di cose che abbiamo detto e cose che abbiamo fatto come questo. Perché avete visto che c'è in corso un'attività denigratoria di danneggiamento della persona e perché secondo voi vogliono danneggiare una persona? Per non permettergli di fare queste cose qua. Per non permettergli di concretizzare i fatti che si erano detti, che si erano annunciati. Quando tu demolisci una persona, poi non le permetti più di concretizzare. A me stanno prendendo in giro, hanno riempito pagine, ovviamente non ho letto, me ne frego, di giornali per un lapsus. Ma perché invece che dire valico, ho passante, ho detto tunnel. Ma secondo voi io mi fermerò per questo, io ne commetterò tanti altri l'apsus, non me ne frega null'apsus.